E allora ragazzi belli, come va? Ciao signori, benvenuti in un nuovo video, io sono Emilio e oggi voglio darvi questa comunicazione veramente importante di una cosa veramente importante che farò esattamente sabato 7 luglio questo sabato qua farò una diretta, una live di ben 5 ore raga avete capito bene? tutto questo sarà lo speciale 1000 iscritti che come sapete ho raggiunto qualche settimana fa quindi trovate qui sotto in descrizione il programma più o meno che ho buttato giù di quello che farò in quelle 5 ore forse può cambiare, forse rimane così, non lo so perché sto sentendo un paio di persone mi devono comunque dare delle risposte, infatti ci saranno ospiti speciali e spettacoli pirotecnici, robe varie stronzate a parte ragazzi miei vi ricordo nuovamente dall'ora 14 fino alle 19 sarò in live sul canale Emilio Gamer ovvero questo canale quindi non mi piace ciao ciao